Elevare i piccoli levitati a prodotti di pasticceria gourmet, questa è da tempo la mission che si propone il pastichef Rocco Cannavino, meglio conosciuto come Zio Rocco. Oggi qui per presentarci tutte le sue novità, un vero maestro che realizza dei cornetti e brioche uniche e che naturalmente i cui prodotti sono frutto di grande ricerca, di grande studio, ma anche di grande sperimentazione di gusti, ma con massima attenzione all'estetica. Lo abbiamo qui con noi, il piacere di avere qui a mattina live, Zio Rocco, buongiorno, come stai? Già l'altro ci hai portato, qui quest'oggi sta venendo a tutti l'acqualina in bocca, non vi dico al di là delle telecamere in studio, camera e la regia e tutti i tecnici, ci porti a conoscere questa tua novità pastichef, ovvero il cornetto italiano, il cornetto italiano nel mondo che trova ispirazione per Italia squisita, ci racconti il punto di forza di questo tuo nuovo prodotto gourmet? Sì, questo prodotto nasce proprio da questo evento che è successo improvvisamente, dove ci siamo ritrovati a rappresentare il cornetto italiano nel mondo per Italia squisita e da lì è partito poi l'idea di proporre il cornetto italiano. Il cornetto italiano, eccolo qua, tutto per noi. È proprio italiano, perché? Perché l'impasto è quello del cornetto italiano che abbiamo presentato per Italia squisita, con una piccola modifica, perché l'impasto è fatto al cioccolato come vedi dal prodotto che abbiamo qui in esposizione. All'interno ho voluto metterci la crema del dolce più famoso italiano nel mondo che è quella del tiramisù. Wow! Quindi un altro elemento. Un esposizione di sapore, quindi c'è già di base il cornetto al cioccolato che è già buonissimo, però all'interno abbiamo questo cuore dolcissimo di tiramisù che ci caratterizza e poi? Non è finita qui. Sopra abbiamo una sbrisolona mantovana al caffè 100% arabica, che è la sbrisolona, è una torta mantovana famosissima nel mondo, quindi ecco un altro elemento che rappresenta l'Italia. E a completare il tutto all'interno c'è un cuore di cremino al caramello salato, che è la parte poi più dolce di tutto il prodotto, perché se vedi in superficie c'è il fondente. Insomma è un tripuglio di sapori, è un'esplosione di sapori, ma a questo punto Zerocco ci devi dire anche come può essere mangiato il cornetto italiano, perché effettivamente ha una sua stratificazione di gusti, per cui c'è magari chi preferisce mangiare prima la parte alta, il fondente, e poi andare al cuore, o magari chi decide di spezzarlo al centro, andare direttamente al cuore e poi pian piano gustarsi il cioccolato fondente o questa sbiciolata che ritroviamo in alto di cornetto. Come mostro spesso nelle storie Instagram, dove faccio vedere un po' come si mangia questo prodotto molto elaborato, spesso cosa faccio? Quando si arriva al cuore mi conservo i pezzettini di sbrisolone, di fondente e li vado ad inserirli all'interno. È nel cuore. Esatto, in modo che tutti gli elementi del prodotto poi al morso finale, centrale, arrivano tutti. Arrivano tutti. Il crunch, il fondente, il dolce, il salato, è un qualcosa di eccezionale. È una vera e propria goduria. È un vero italiano. È un vero italiano. Tra l'altro, ecco, siamo prossimi al Natale, quindi non vediamo l'ora di poterci dedicare. Prima parlavamo di sana nutrizione, però effettivamente anche con le nutrizioniste loro dicono, va bene, non vi preoccupate, il giorno di Natale, godetevi il buon cibo, godetevi le tradizioni. Perché è giusto anche che sia così. Poi pian piano ci rimettiamo in linea. Ci appropriamo per la punta Natale, come diceva Zio Rocco, e per questa data, per questo periodo, sia per grande e piccini, tu hai deciso di sperimentare, di mettere appunto un'altra dolcezza molto prelibata, ovvero la pandorata. Quindi vicino al pandoro, vicino ancora una volta a quella che comunque è la gastronomia italiana. Ma che vuol dire la pandorata? Ecco, cos'è che ha di così speciale la tua pandorata? Diciamo che erano quattro anni che lavoravo un grande lievitato, perché tutti se lo aspettavano un grande lievitato da Zio Rocco. Però non volevo proporre un qualcosa che magari già esiste ed è già affermato, come il mondo dei panettoni o dei pandori, che ce ne sono di tantissimi ed anche buonissimi, che ogni anno mangio pure io. Volevo un qualcosa che mi rappresentasse il più possibile. Noi abbiamo nella nostra gamma di prodotti un prodotto che si chiama Brioche Pandoro, che è una brioche super super soffice, e volevo riportare quelle consistenze all'interno di questo grande lievitato. E quindi cosa è successo? Abbiamo deciso di farne solo cento, di impastarli a mano, per donare al massimo la nostra filosofia a questo splendido prodotto, e creare un ibrido che avesse sì le caratteristiche di un grande lievitato, ma l'anima di uno dei nostri prodotti più caratteristici, che è proprio la Brioche Pandoro. Ed ecco perché la pandorata. Eccola qui, la pandorata, stiamo vedendo in foto questa immagine, grazie al nostro registro Salvatore Mondo. È un prodotto che piace tantissimo, dicevo ai grandi piccini, quindi sortisce veramente grande successo al palato di tutti, nel senso che riesce a soddisfare i gusti di tutti quanti noi. Assolutamente sì, perché il prodotto, come puoi vedere, è al massimo della sua naturalezza, non ha canditi, non ha uvetta, non ha glasse, è l'impasto quanto più naturale possibile, perché poi noi all'interno daremo due sac a poche, con le nostre due creme più rappresentative, che sono la nostra crema al latte di bufala e il nostro pistacchio, che le persone all'occorrenza decideranno se mangiarlo al naturale oppure variegarselo. Beh, perfetto. E lì arriva la magia vera e propria. La magia che sta arrivando al nostro pubblico da casa, che vorrebbe assaggiare in questo momento, perché è anche l'ora giusta, magari prima di arrivare all'ora di pranzo. Tra l'altro, dicevo che il tuo lavoro, l'essere pastichef, naturalmente ti ha dato la possibilità di sperimentare, noi livitati, c'è tanto studio alla base, tanta ricerca, puntando sempre all'estetica, perché l'occhio ha anche voi la sua parte e è da lì che avviene la prima sensazione, perché in realtà quando c'è l'incontro col cibo... Con l'occhio si fa la prima vendita. Cioè, tutti i nostri punti sensazionali, quindi gusto, olfatto, devono essere studiati dal pastichef. Assolutamente. Devono essere tutti quanti messi sulla stessa posizione, sulla bilancia, alla stessa maniera, perché se un prodotto è bello, al 90% risulta pure buono. Già se si presenta non bello, parti già svantaggiato nel accattivare il cliente. Accattivare la curiosità di poterlo assaggiare. Intanto la curiosità di poterlo assaggiare è veramente tanta. Stiamo vedendo tantissimi prodotti, tante foto che ritroviamo anche sulle tue pagine social, delle tue creazioni così geniali, ma ce n'è una a cui sei maggiormente legato come creazione, come figlio tuo, un prodotto che ti piace, perché ti piace, perché è buono, perché hai avuto un'ispirazione? Guarda, uno vero e proprio non c'è. Diciamo che tutto il concetto e tutta la filosofia a cui sono legato, che è quella di sposare il mondo dei lievitati con il mondo della pasticceria, tutto fatto con questa sorta di quasi missione progetto, che è quella di rivalutare i piccoli agricoltori del nostro territorio. Perché prendere un prodotto, farcirlo con una crema industriale, è un qualcosa che le persone possono fare a casa, no? Compri il barattolo della spalmabile famosa, che tutti conoscono, buona, ma lo puoi fare a casa. Io volevo dare un qualcosa che avesse il sapore della nostra terra, quindi alla ricerca dei piccoli produttori, come i produttori di albicocca del Vesuvio, che ci fanno la nostra composta, le nocciole di Visciano, per fare la nostra spalmabile alla gianduia, la nostra crema latte nocciola. Questo è quello che io mi sento proprio mio, nel senso a cui difendo con le unghia. E questo ci permette anche di dare valore a quelli che sono, come dicevamo, i prodotti, poi a chilometro zero, e covalorizzare i prodotti del nostro territorio, rendono unici i nostri prodotti, ma permette anche... Io ti volevo raccontare un aneddoto bellissimo. All'inizio che aprimmo il Lab Store di Pomigliano, mi portavano, mi regalavano continuamente queste casse di albicocca per le chiella, no? Era un onore riceverle, che sono buonissime, però me ne portavano in quantità... Quelle del Vesuvio? Esatto. Io dicevo alla persona che oggi collaboriamo già da un bel po' insieme, dicevo, Franci, sono buonissime, però me ne stai portando così tanti. Io non so come... E lì mi diceva, è un prodotto che purtroppo la grande distribuzione non richiede, è lavorato, magari essendo molto, molto artigianale, sai, c'è la macchiolina, il puntino nero, il moscerino, invece la grande distribuzione vuole queste albicocche perfette, quasi finte. E io gli dissi, guarda, a sto punto facciamo una cosa, fammi una composta con queste albicocche favolose, quanto più, meno cose ci puoi mettere all'interno, poco zucchero e lasciami la frutta così com'è. E da quel giorno noi collaboriamo da quattro anni, Francesco, lo voglio salutare, il loro del Vesuvio, è un produttore sia di piennolo che di albicocche del Vesuvio, e oggi noi portiamo questo prodotto al cielo, lo portiamo con una medaglia all'accollo proprio di fierezza, perché siamo riusciti a... A valorizzare e restituire dignità, soprattutto a questo prodotto. Ed è una cosa bellissima, quelle albicocche che lui doveva vedere come consumarle, oggi... Abbiamo trovato la loro canalizzazione... E questa è una delle più grandi soddisfazioni. Esatto, ma ancora una volta legata al territorio, la tua generalità non si ferma mai, perché per l'appunto legato sia ai prodotti della nostra terra, ma anche quella che è il concetto della nostra tradizione, decidi di creare il cornetto San Gennaro, che nel momento in cui l'ha creata è andata a ruba questo cornetto, ma cosa ha di così speciale? Sicuramente il colore rosso, sicuramente. Allora, questo cornetto... E quindi riporta appunto anche l'identità di quello che... Il mistero, il trassacro, il profano, è un qualcosa che ancora una volta legato alla nostra tradizione e alla nostra gastronomia ci rende orgogliosi. Sì, sì. Il prodotto di San Gennaro è stato un qualcosa di incredibile, uno perché chi ha creduto in questo prodotto e ha voluto viversi l'esperienza, ha vissuto realmente un'esperienza a 360 gradi. Nel prodotto c'era la storia del Santo Patrono, ma vista da tutti i tipi di sfumature possibili e immaginabili, dalle sue origini, dall'estetica. Ogni elemento che aveva quel prodotto rappresentava una parte della vita del Santo Patrono e in più il nome O Miracle era perché aveva una giusta causa quel prodotto, perché l'intero incasso di quel prodotto è stato devoluto all'associazione del Postiglipone per acquistare dei giocattoli, esatto, proprio lui. Eccolo qua. Beh, complimenti anche per il gesto, no? Non è mai banale quando si compiono gesti, anche perché in questo caso la tua forza, perché tu sei seguitissimo, sei social, tra l'altro, sei anche... Per gustare le tue edilizie si fanno, si fumano delle file fino a nottefonda addirittura per poter assaggiare il tuo cornetto gourmet. Ti saresti mai aspettato questa popolarità? No, assolutamente no. Noi quando siamo partiti col progetto avevamo le idee chiare di portare la nostra filosofia e si sperava, perché ante Zio Rocco non esisteva, che le persone andavano a mangiare il cornetto alle 8 di sera. Oggi accade, noi ne siamo onoratissimi, che le persone pur di non perdersi i nostri prodotti fanno le file già da inizio serata, ancora prima di cena, è qualcosa di incredibile. Non c'è più l'orario, insomma. Abbiamo rieducato, non so se posso dire così, le persone a... A poter assaggiare il cornetto in ogni ora della giornata. Non più solo il tappabuchi della notte dopo la serata in discoteca. Dopo la mezzanotte, magari con il latte. No, ma in tutte le ore della giornata è possibile assaggiare il cornetto di Zio Rocco, perché sono tante le varianti. Qual è il segreto, ma soprattutto ultimamente, che messaggio possiamo dare a chi vorrebbe seguire le tue orme, perché non è facile, poi in così poco tempo raggiungi una popolarità, ma comunque è frutto di tanto talento. E lo che dico sempre, bisogna credere in primis in se stessi e nel progetto che uno vuole portare. E non bisogna ascoltare voci esterne che ti possono condizionare. Noi quando siamo partiti avevamo il mondo contro, perché scegliendo di fare un lavoro del genere, non usando prodotti industriali, non usando prodotti affermati della grande distribuzione, eravamo come dei salmoni che nutravano controcorrente e dovevamo avere vita breve, mentre invece siamo stati costanti, abbiamo creduto nel progetto fino all'ultimo. Ancora oggi siamo sempre lì sul pezzo a crederci e non abbassare mai l'asticella. Solo così si possono raggiungere poi tra virgolette gli ottimi risultati. Quelli che ha raggiunto Zio Rocco, grazie di essere stato qui con noi, grazie per averci portato. Grazie a voi per l'ospitalità. Grazie a Zio Rocco, naturalmente ti aspettavo per presentare poi le tue creazioni, quelle del Pastry Chef Zio Rocco, oggi qui con noi a mattina live. Buon lavoro e complimenti. Grazie a tutti.